Partiti, seconda corsa del programma, il premio Proloco Zieri, subito al comando il numero due Light Launch con al suo in seguimento Wind Spirit in terza posizione Acqua Fredda, Idrus Unic, Golde Mendez e chiude Menta Selvatica. Cavalli che affrontano la piegata finale, sempre Light Launch al comando con in seconda posizione Wind Spirit in terza Acqua Fredda, in quarta Idrus Unic, in quinta Golde Mendez. Cavalli che stanno entrando in dirittura, non cambiano le posizioni, sempre Light Launch al comando seguito da Wind Spirit, Acqua Fredda con attacco all'esterno di Golde Mendez. 200 finali, ancora Light Launch al comando con attacco all'esterno di Wind Spirit, Light Launch Wind Spirit, 50 finali e viene a vincere il numero due Light Launch su Wind Spirit, Golde Mendez e Idrus Unic. Si attende l'ordine ufficiale. Affermazione da favorito di Light Launch che va a chiudere a 2.46.